4 di luglio, siamo nel mese di luglio, stiamo entrando nel mese di luglio, sappiamo che il mese di luglio è il mese dedicato dalla devozione popolare al preziosissimo sangue, all'adorazione, al culto del preziosissimo sangue. Sappiamo altresì che il mese di luglio è il mese della Madonna del Carmine. Il 16 luglio è un appuntamento molto sentito, un appuntamento del cuore spirituale per tutti i devoti della Madonna e la festa della Madonna del Carmine è una festa dolcissima in cui la Vergine elargisce tante grazie, non solo grazie in ordine alla liberazione delle anime del purgatorio. Sappiamo che tra i privilegi dello scapolare del Carmine c'è anche il cosiddetto privilegio sabatino, per cui la persona che lo porta il sabato dopo la sua morte viene liberato dal purgatorio se dovesse capitare nella sventura di dover passare attraverso le fiamme purificatrici del purgatorio. E quindi possiamo dire che il mese di luglio è anche il mese della Madonna del Carmine e il mese della Madonna del Carmelo. E gli ordini del Carmelo sono due, sappiamo, meglio uno in due rami che simbolicamente e un po' semplicisticamente distinguiamo in carmelitani calzati e scalzati. Quelli scalzati, naturalmente che al giorno d'oggi portano le scarpe anche quelli scalzati, sono quelli della riforma di Santa Teresa d'Avila e di San Giovanni della Croce. Ma la spiritualità carmelitana è come un fiume in piena nella chiesa e quindi contempla figure e santi di primo piano, come ad esempio Santa Teresa di Gesù Bambino, che sto inquadrando in questa registrazione, ma soprattutto appunto Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e tanti altri santi e beati. Ebbene oggi, 4 di luglio, parliamo di una beata dell'ordine carmelitano, di spiritualità carmelitana, poco conosciuta. Però ne parliamo perché il calendario liturgico riporta oggi la festa di questa beata, non solo, ma per dimostrare che appunto questo tipo di spiritualità carmelitana, questo filone di spiritualità all'interno della chiesa, si articola in figure più o meno conosciuti, più o meno importanti, ma comunque tante figure, e per dimostrare anche che la spiritualità carmelitana è feconda, è stata feconda in tutti i tempi della chiesa che hanno seguito alla fondazione di questa spiritualità, non solo, ma che può essere feconda anche al giorno d'oggi. Dunque, 4 di luglio, parliamo della beata Maria Rosa Curcio, una siciliana nata ad Ispica e nella fine dell'Ottocento, naturalmente la fine dell'Ottocento la Sicilia è una famiglia patriarcale per cui il padre vuole controllare la vita dei figli e non ammette che la figlia, appunto Maria Rosa, si consacri in un convento, tanto meno in un convento, in un monastero carmelitano. Lei infatti era rimasta folgorata dalla autobiografia di Santa Teresina di Gesù Bambino, quindi aveva letto la storia di un'anima all'età di 15 anni. Ebbene, storia di un'anima è un libro che ogni cattolico dovrebbe leggere nella sua vita. Non solo, ma è un libro che ha inciso tantissimo nella storia della chiesa. Sappiamo che noi solo tramite questo libro conosciamo Santa Teresa di Gesù Bambino, che è stata definita addirittura la più grande santa dei tempi moderni. Ebbene, lei legge a 11 anni, Maria Rosa Curcio, questo libro, ma non riesce a entrare in convento perché il padre glielo vieta. Diventa terziaria carmelitana e può entrare tra le religiose, questa volta domenicane solo dopo la morte del padre al 25 anni. Però in quest'ordine domenicano, un'affiliazione naturalmente, un ordine secondario del ramo domenicano, lei non si trova. Lei vuole fondare un ordine che abbia una spiritualità, una congregazione più che ordine, che abbia una spiritualità carmelitana, come con facendo alla sua intole e alla chiamata che ha ricevuto da Dio. E allora esce dall'ordine da questa congregazione dominicana e con l'aiuto di un padre carmelitano olandese, missionario, fonda una prima comunità di giovani ragazze, giovani donne attorno a lei, prima ispica appunto nella sua città. Poi però, siccome sorgono problemi con la curia, con il vescovo di noto, allora debbono spostarsi a Ragusa, sempre in Sicilia. Ma la congregazione comunque fiorisce e poi sarà nel Lazio che si chiameranno carmelitane di Santa Teresa di Gesù Bambino. Raggiungeranno il Brasile, l'Indonesia, altri paesi della missione e altri stati, naturalmente allora a maggioranza cattolica. Muore nel 1957 ed è una figura straordinaria di semplicità, ma anche di fervore carmelitano. Ecco, lei vive questa tensione verso la Vergine con il titolo di Madonna del Carmelo. Riprendo una considerazione che facevo anche prima, la spiritualità che noi ci ritroviamo non è una costruzione artificiale che facciamo da noi, ma è anch'essa un dono di Dio e le chiamate nella Chiesa sono molteplici. Come molteplici sono gli ordini, come molte sono le vie, ma la meta è sempre Cristo e con lei che ci aiuta e ci guida a comprendere e ad amare Gesù e quindi a salvare la nostra anima e il mondo intero è lo Spirito Santo, è la chiamata di Dio, è l'azione di Dio. Anche la spiritualità non ce la diamo da noi, ma è Dio che ce la dona. Santa Maria Crocifissa Curcio, perché poi si chiamerà così, Maria Rosa Curcio, dopo che sarà diventata fondatrice, suora carmelitana di Gesù Bambino, Santa Maria Crocifissa Curcio prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino prega per noi.